Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Juventus-Napoli, perché si giocherà domani all'Uventus Stadium Allora, è la prima partita difficile Io lo so che ce la possiamo fare Sento qualcosa dentro di me che mi dice che la Juventus domani vincerà Comunque, io vado per 3-0 Juventus Per esempio che segni The League di Bala e Ronaldo Se qua giù i vostri commenti Speriamo che The League segni e che il vice allenatore lo faccia giocare Perché The League deve giocare, secondo me ha una chance di segnare la difesa Spero che tenga come ha fatto col Parma perché abbiamo difeso benissimo col Parma Speriamo di fare la stessa cosa e l'attacco deve restare com'è Se giochiamo in quel modo vinceremo la partita Comunque, speriamo Io lo spero che domani vinciamo e me lo sento Perché noi siamo la Juventus Comunque, il video è ancora qui Grazie a voi, porto i due esempi Credetemi, finirà 3-0 Juventus Ciao, porto i bianconeri per sempre